Salute a tutti e bentornati su Zanath Fatto In questo video di Halo 2 impersoneremo l'Arbiter che sta andando a ricerca di eretici che non credono al grande viaggio Che fa parte della fede principale dei Covenant E quindi andiamo ad andare qua in questa struttura e zittirli per sé Tra l'altro un'altra novità di Halo 2 è anche questa bella spadina qua che fino al primo Halo non c'era Posso mettere la spadina o questo per lo fuggire al plasma Attivare la mimetizzazione mostratevi soltanto quando l'Arbiter avrà salito Guarda ragazzi apriamogli il culo questi stronzi Vai Eretici Eretici Dovresti fare altrettanto Arbiter Attenzione però La tua corazza non è nuova come le nostre La mimetizzazione non... Ah è vero Ah Qua come era prima Ah qua c'è la mimetizzazione pure Ecco Mi siamo fatti sgamare subito Guarda questo è un cazzo Merda Mi piacciono un cavolo qua Deve che sono gli amici nemici però Mi piacciono un cavolo qua Eh Ah 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 Faith Un d JAY Questa fanguola Questa spadina Eh un attimo Per cavolo E' rimasto solo uno Sono un bel po' di nemici qua sotto Eh si Guarda I bottini del cavolo ci sono pure Ma qua è il mio alleato Guarda è che non c'è più un cavolo di chi ha avuto il limite Guarda che siamo quasi da soli Ci sono tante truppe amiche qua Perché ho proprio un cazzo Io ci esempio la cosa sono gli elite che hanno quelle Tipo di ali Quegli spuntoni Ma anche la carabina non è male Quasi quasi Eh vabbè Dopo la Cambiamo Da ciò di qua La carabina E' questo Cosa attivare qua Arrivano altri rinforzi Esattamente Que asumono Grazie. Forse qua sotto. Merda! Ho proprio la spada qua. Merda! 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 Ho anche aggiornato le animazioni. Ho scavalcato l'ostacolo con le litri. Non so che quante fai. Una di queste sta per andare a fanno quello. Senta un po' d'ora utilizzare la carabina. Dormivano ed hanno svegliato. Che stronzi che siamo ancora ragazzi. Senta un po' d'ora. Guarda come torno. Ma non è vero. 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 Qua arriva. Oh. Adesso sono bello carico. Ehi, non lo vado a fare? Uccidetelo, fratelli miei! Qual'è il cattivo? L'Eretic Oh la mia Non seguirlo L'Eretic L'Eretic non possa scuritarla in tutta la struttura Sfruggeremo una alla vostra fino a quando lo proveremo in divertentere C'è un point superato E' superato Nessun segno del leader dell'Eretico del suo magico Continuiamo a cercare Nessun segno Nessun segno Cioè io devo andare qua Credo Cioè io devo andare qua Un po' costagna? Cosa succede? Cosa succede? Questo fetore Io l'ho già sentito Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Grazie.